ANSA, Roma, 9 gennaio a novembre il numero di occupati ha raggiunto il livello più alto da 40 anni. E scende anche la disoccupazione giovanile. Si può e si deve fare ancora meglio. Servono più che mai impegno e serietà? Non certo una girandola di illusioni. Così su Twitter il Premier, Paolo Gentiloni commenta i dati Istat sul lavoro.